Ben trovati, ricorderete qualche settimana fa che vi parlai del nuovo libro Supernova scritto da due ex del Movimento 5 Stelle, ma non due qualsiasi, uno stretto collaboratore di Casaleggio, l'altro strettissimo collaboratore di Beppe Grillo, che manifestavano ed evidenziavano conoscendo bene il Movimento dall'interno quanto stava avvenendo rispetto alla evoluzione dal momento di nascita del Movimento grillino, passando per il 2012 e giungendo ai nostri giorni. Si sta verificando quello che questi avevano anticipato, che io avevo letto e che mi ero permesso di trasferire attraverso queste telecamere e scoppia la polemica all'interno del Movimento antipolitica. L'attacco lo subisce in primis di maio e dove tentano e come tentano di inclinare la sua popolarità attraverso l'uso dei soldi e Di Maio è costretto a difendersi pur avendo, dice sempre il Vice Presidente della Camera per il Movimento 5 Stelle, prove da poter in ogni caso mettere in evidenza e da conoscenza dei militanti e dei cittadini italiani. Cosa rimproverano a Di Maio? Che questo in tre anni avrebbe speso circa 100 mila Euro per le varie visite itineranti nel Paese e da qui all'interno del Movimento 5 Stelle si è alzato il grido di protesta per un liderismo e per un'ambizione che questo potrebbe avere e potrebbe essere anche condivisa da Grillo di poter ambire al ruolo di candidato premier in caso di elezioni ed anche in caso di elezioni anticipate qualora ci dovesse essere un governo di scopo per il risultato referendario e poi quindi andare alle urne. Cosa sta succedendo? Il Movimento 5 Stelle, dissi attirandomi le non simpatie dei tanti movimentisti, sta diventando un movimento sempre più partitocratico, nel senso, io dico buono della parola, il pensiero unico in ogni società non ha mai fatto bene, la democrazia, il confronto e anche lo scontro in politica è il sale della democrazia stessa. All'interno del Movimento di Beppe Grillo si stanno evidenziando due momenti, uno filo governativo e uno romantico, nostalgico dei tempi della nascita di questo in cui si doveva unicamente contestare rispetto ai nuovi, quelli che sono entrati nel partito del comico genovese successivamente al 2012. È storia dei partiti, non è detto che in ogni partito tutti la possano pensare in modo diverso, però molti parlamentari organizzatisi contro Di Maio si parla di una settantina anti vicepresidente della Camera dei Deputati, perché è anche questo Di Maio, oltre a essere un esponente del Movimento 5 Stelle, questi 70 parlamentari si starebbero mobilitando in modo efficace contro di lui, disattendendo, attenzione, gli input dello stesso Beppe Grillo che da Palermo dice farò un passo in avanti, altro che di lato, sono il leader di questo movimento, non lo abbandonerò, tanto è vero che poi qualche giorno dopo si reca per tentare di placare la rabbia o il disappunto anche nella Capitale, ma a quanto sembra invece nel Movimento 5 Stelle non si sta generando quella pace e quella unità che in molti pretendevano, passando o partendo per meglio dire proprio da Beppe Grillo, ma certamente non è soltanto il Movimento 5 Stelle quello a essere spaccato in questo momento che per alcuni potrà essere di transizione con la speranza della vittoria del no, per altri quelli che sperano nella vittoria del sì al referendum di consolidamento di un potere politico, quello di Renzi. A domani.